Ehi la turma! Io sono Mazzades e benvenuti in questo nuovo episodio di ShopEquipe, giorno numero 17 e tra l'altro visto che completando quella missione l'altro giorno siamo riusciti a arrivare a 35 giusti giusti quindi sarei molto propenso ad acquistare il 10% di sconto e lo farò con molta contentezza 10% su ogni ordine vuol dire che saranno un discreto risparmio, soprattutto su oggetti più costosi però comunque possiamo già notare la variazione su quello che compreremo tutti i giorni Siamo qua adesso con questa nuova disposizione, spero che non sia troppo scomodo per prevenire i furti però abbiamo un pochettino di spazio in più per esporre eventualmente altra roba Dai, venite, venite, venite C'è una nuova sezione per maghi, da oggi Una spada, ottimo, copro una pozza che c'è la missione del pozza niente Ma... Sì, l'ha presa Eh, infatti Se una volta pagano appena prendono la prima cosa, perché almeno me ne ha pagata una e l'altra l'ha rubata Si ritornoci un po' contro il discorso del secondo acquisto, eh Perché talvolta è problematico quando il secondo acquisto invece ha un furto Cioè ti compra magari una cosa... cioè c'hai più possibilità di furti perché hai più possibilità di acquisti Ogni acquisto loro ragionano se rubare o meno Uh, abbiamo venuto il primo paio di guanti da mago A questo mago qua A Sam Bieber the mage Poi c'è Bart Potter il druido Sam Bieber ha comprato il primo paio di guanti da mago Ottimo paio, secondo me Sarà molto contento Questo è un druido, va a prendersi le sue erbe, vero? No Sì, ha preso un'erba Complimenti Una bellissima erba coltivata con le mie mani Con molto amore E' stato un piacere fare affari con lei Arrivederci alla prossima volta Vedo anche che sta indossando un nostro paio di stivali Un ottimo tipo Spero che si trovi bene Uh, vedo un cliente con i nostri stivali e la nostra spada Donna di Bartolo Cosa viene a comprare oggi? Uno scudo? No? Uh, dei guanti Ottima idea Guarda di come le stanno bene Calzano proprio alla perfezione Ottimo acquisto se devo dirlo, eh Ottimo acquisto Ha comprato due cose in combo Bravissima proprio Secondo me E' un comportamento incomiabile Ordiniamo un po' di roba Abbiamo venuto tutti i stivali questa mattina, già? Managgia non mi ero accorto di aver ordinato tutte le cose Beh, lei vorrebbe una cintura Purtroppo non abbiamo cinture da guerriero per ora E neanche queste spade super mega più potenti Mi scusi ma io avrei bisogno che lei mi restituisse quello che ha rubato Ecco Vivo o morto ma Ho bisogno dei miei guanti Managgia sta scopa Se è lenta Vorrei sbloccare il tizio là Il cavaliere che va a cercare Fare le quest E a cercare la roba Ma secondo me Cioè Costa davvero troppo Costa 400k No perché ho preso una mana potion? Non volevo una mana potion E perché ho preso una spada? T'ha visto che stai staccaffando? Cosa mi hai rubato? Per una stupida pozione? Ma sei serio? Ma sei serio? Hai messo i... I... In dubbio la tua vita per una stupida pozione? Ma che... Che grazie... Che ne ho fatto io qua? Un guanto Un guanto da mago Degli... Non ci sono più stivari No? Ehm... Qua? No! Uè! T'ho vista! T'ho vista! Eh Se ti pulisco dopo Perché ho bisogno di Sistemare un attimo qua Che non sto capendo niente Allora Ah no ho sbagliato Ho cliccato perché credo Dovesse starcene 4 Invece no Ehm... Un paio di guanti No! No sto... Allora Rifacciamo Allora 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Un'altra bacchetta Un'altra wild growth E un'altra potion Oddio! E' sporco Un inferno proprio Ehm... Deve è andato il cadavere? Vai pulisci Sto... 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 Cribbio di cadavere Veloce 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 Managgia Ci va un tappeto Qua all'ingresso Andiamo a sistemare la nuova roba Anzi Facciamo subito un nuovo ordine Pochè Secondo me E' Necessario Guanti Quelli sia a posto Un 2 Stivali Un'altra bacchetta Un'altra 1 E un'altra Health potion E un altro Leather boots Vai Allora Ehm... Piazza 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 Secondo me Arriva l'altro ordine Prima che noi Finiamo di piazzare questo No comunque La spada L'avevo ordinata giusta Prima Non avevo visto Che effettivamente Avranno comprato Quelle dall'altra parte Uh Abbiamo finito La missione Quindi dobbiamo Prendere subito Un'altra Ehm... Vai con Wands Eh mi sa che è più facile Wands Per ora E' arrivato l'altro ordine E dobbiamo subito Farne uno nuovo Mi sa Non sto capendo Più niente Due stivali Uno E uno Due Bacchetta White growth Questa Questa va qua Si c'è bisogno Della trolle Una Una Tanto non le venderemo Più le bacchette Adesso che le abbiamo Comprate Cioè adesso che abbiamo Preso la missione Bene Prendo E niente Sta sparendo Tutto Stiamo vendendo Qua Quintali Proprio qua Cioè per fortuna Ma Ehm... A starci dietro Ci sarà da Impazzire Vai 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 Riempi gli scaffali Allora Allora Una pozza Ehm... Ne abbiamo Presa anche Già un'altra E poi Comprano le spade Quelle sullo stand Sembra Ehm... Si si Sono tipo Glicciate Una dentro L'altra No 5 1 1 1 1 1 1 Vai Mi sono perso qualcosa Di sicuro ma Perché mi hanno fatto acquisti Mentre facevo l'ordine Quindi uno l'ho vista La reclestone Ma non ho visto tutto Quanti punti K abbiamo 10 Vabbè Non è niente No Non riesco a girarmi E' vero che ho una strana sensibilità Del mouse Sto a fare Oh Dobbiamo salire di livello Dobbiamo arrivare al 16 Sono qua Di punti Non ne facciamo mica E E Non mica Quello di casa è mica Ma Mi hai sporcato Tutto per terra Porca miseria Devo comprare Dei tappeti Perché qua La gente arriva Con gli stivali Tutti sporchi Di sangue Di sangue Che va Per quella delle bacchette Mi dice Venti 10 bacchette Non ne abbiamo più venduta Manco una Che tempismo Ragazzi Sta diminuendo un po' Il flusso di gente Ma per fortuna Perché sono qua Si implodeva La testa Proprio Malas 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 Come mi è uscito Malissimo Ah i glows Non ho visto Se sono wizard E vabbè Niente Faremo un po' Un altro ordine Si era un wizard Comunque Meglio I wizard Ci danno più profitto Vero Questi 8 E questi 16 Si Da molti più soldi I wizard Maggio Ho finito La roba Per druidi Dovremmo Mettere più piante Il prossimo Giorno Allora C'è un ordine Qua pronto Ed è già sera Mannaggia Non ci sono stati I tempi morti Proprio per niente Oggi Col fatto che ci sono Anche i maghi C'è davvero Tanta più E adesso Mi comprono Le bacchette Che è finito Il discorso Eh Allora 1 1 1 1 2 Da non restare Senza Wizard Glows Proprio così Sul finire E 1 Playing sword Ok Playing sword Vai Ah me l'ho comparata Quella sul tavolo Si Ma forse l'avevo Già notato Non mi ricordo Più niente Abbiamo finito Tutta la roba Per druidi Oh dei Domani Più piante Ma non arriveremo Ma non arriveremo mai A livello 16 Comunque Nel suo 13k E la Questo Non abbiamo Mica finito Perché ovviamente Perché ovviamente Nel mentre Nel venuto sera Nessuno compra Pozioni La sera Perché Perché ho pre Vabbè Non è che va male Per carità Allora Recolstone Vero che Quei tavolini Per le Recolstone Però mi rubano Eh volevo Il funghetto Mi scusi Signora Ma oggi Sono andato E ruba E riusciamo A comprare Anche l'ultimo Tavolo La taverna Comprano Sì Bravissimo Mi dando Un profitto Da nulla Eh due L'uno Però magari Sono Magari riesco A concludere La missione Prima di Fine giornata Non lo so Quante me ne mancano Due Dai due Possono anche Comprarle Però che mi danno Solo 5k E quindi Non è che Mi cambia nulla Yes Ne manca Solo più una Dai che Hai 59 secondi Eh Abbiamo 54 secondi Perché Comprino L'ultima Pozione Dai Superman Superman The Warrior E Jack The Warrior Stanno No E stanno Dalla parte Giusta Yes 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 Quale queste Prendiamo Adesso Ehm Ma proviamo Out of mana Mi sembra più facile Che non vendere 30 erbette 30 erbette Paga un sacco 120 punti 120 punti Sono tantissimi Punti Cioè ci sblocchi Il Warrior Livello 1 Così Subito Ah è scappata Perché la fase Di build Ok No dove sto andando Voglio andare Solo via della taverna Poi dopo Si può anche Fare che Concludo Così L'episodio E farò le ultime cose Off camera In modo da non Turbarvi Allora Riceviamo i soldi E compriamo L'ultimo tavolo E poi Sbloccheremo Anche le altre robe Per la taverna Che cosa c'erano Di altre robe Per la taverna Che continuo A controllare La spazzatura L'ho controllata Un attimo Fa Allora Per la taverna Cosa c'erano Ah questa Cosa Boh Per la taverna Ma questa Era solo Ottantina Se non ricordo male Ottantacinque 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 Cento Si Questo mi fa Du late Più tredici Questo Più Venti Guadagni quattro Volte Tanto 30 monete in più per cliente Sì vabbè non sarà mai un introito enorme Però è qualcosina comunque di carino in più 400k sono tantissimi invece Sì Allora io vi ringrazio per la visione Ci vediamo nel prossimo episodio Vi invito a lasciare un mi piace, un commento Iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto Ciao a tutti e buona giornata Ciao